Le verifiche sull'immigrazione e il contrasto al fondamentalismo islamico sono stati al centro delle interrogazioni del centro-destra rivolte alla ministra dell'Interno Lamorgese durante il question time di oggi. Un sistema di monitoraggio che si basa su tre pilastri fondamentali, ha spiegato la ministra. Analisi dell'intelligence, il controllo del territorio e la cooperazione internazionale tra gli organi investigativi. Attività che ha portato dal 2015 ad oggi a 504 espulsioni di soggetti ritenuti pericolosi, di cui 46 nel 2020. Ogni migrante che arriva nel nostro paese, ha ribadito Lamorgese, viene sottoposto a procedure di identificazione e fotosegnalamento, per poi essere inserito in tutte le banche dati nazionali ed europee. L'app Immuni e i test antigenici invece nelle interrogazioni della maggioranza al ministro della Salute Speranza. Il decreto legge da poco approvato, ha detto Speranza, prevede di integrare il sistema di tracciamento regionale dell'app Immuni con un supporto telefonico nazionale. L'attivazione del nuovo servizio è stata affidata al commissario straordinario Arcuri. Per quanto riguarda l'individuazione dei positivi, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta potranno effettuare test antigenici, quando però sarà garantita loro la possibilità di operare in piena sicurezza.